Tra qualche settimana sarà possibile pagare i ticket sanitari anche presso gli uffici postali della provincia, quelli dove si trova il cosiddetto sportello amico, circa 80 sparsi per l'Irpinia. L'iniziativa è stata illustrata questa mattina presso l'azienda sanitaria locale di Avellino alla presenza del direttore generale Sergio Florio. Con poste italiane è stato sottoscritto un protocollo che consentirà l'avvio dell'attività di condivisione delle banche dati. In un paio di mesi il servizio sarà operativo. Il bollettino postale per il pagamento del ticket costerà 1,30 euro. Agli utenti verrà così data la possibilità di evitare code e di poter versare il dovuto nell'ufficio postale più vicino. Non solo, sempre grazie all'intesa si potrà pagare anche online. Il cittadino avrà la possibilità di recarsi in uno qualsiasi degli uffici postali sportello amico di poste italiane dislocati sull'intero territorio nazionale e pagare il proprio ticket. Quindi al di là delle funzionalità che può trovare nel circondario del cittadino dove troverà due sportelli amici ad Avellino e 78 nella provincia nei quali poter assolvere questo servizio avrà la possibilità, ove si trovi per una qualsiasi sua ragione anche fuori, su tutto il territorio nazionale, di entrare in un qualsiasi sportello amico e pagare il proprio ticket sanitario. Oggi è il tempo di questo salto. Si connette la prenotazione fatta in farmacia al pagamento adesso che può essere fatto presso la posta e quindi rendere indenne l'utente dal doversi recare presso la struttura ospedaliera e dover pagare il ticket, dare dimostrazione dell'avvenuto pagamento e quant'altro. Aggiungo, se l'utente è anche titolare di un conto banco posta, tutto può essere fatto ovviamente per via informatica, entrando sul conto corrente e sull'attività corrispondente gestita da questo nuovo servizio e quindi l'utente si può recare direttamente con un addebito sul proprio conto corrente direttamente in ospedale o dove serve per effettuare la prestazione.